Cioè mo tu dimmi, no? Tu fai così, guarda Te faccio l'azione No, io devo fare l'azione quando vedo stesse cose Però mi capo niente Pronto? Paolo, come va? Come va? Come va, caro? Che famo oggi? Andiamo a cercare fantasmi? Ma io ve lo fanno una cenetta Una cenetta a casa stregata? Carina, carina qualcosa No, vabbè, andiamo a un fantasma Andiamo a un fantasma, sì, ma che cazzo ce frega Tanto quelli che fanno un cazzo, non c'hanno un cazzo da fare Nella vita, sono falliti Almeno noi ci guadagniamo sopra Eh, vabbè, però se mi dici così Paolo, guarda, io Non so, c'è dove vedere Senti, che apparecchi abbiamo? Ah Sì Neutralizzatore molecolare? Allora io ho un neutralizzatore ma un molecolare Sì, 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 sì No, ma com'è? Un fantasma di tipo A O un fantasma di tipo L? Eh Eh Ok, ok Ah, tipo A? Ci dobbiamo preoccupare? Ok, ok, ok E che fa una vita a sto fantasma? Perché tu vuoi? Perché sta andando a cercare il fantasma? Ah Vogliamo portare Jody? Ma lui no? Ma portiamo Jody Ti dobbiamo portare il corpo Mettiamo là, vicino Al fantasma Mettiamo Masseo? No, Masseo no, Masseo no Secondo me no Masseo gli fa due o tre urli E il fantasma se ne va No, è meglio da no È meglio, è meglio da no Mh Vabbè, vabbè, vabbè Mù pensiamo Facciamo una squadra Facciamo un team Facciamo un team Un team Sì, sì, un team A casa riesco Dai, dai, dai Vabbè Oh Paolo, Paolo Sto in live Paolo Dopo una fiera del fantasma Ciao, ciao Dopo cinetta Dopo il fantasma Sto arrivare Aspetta Paolo Mi hanno fatto un sub Grazie Brian per sub Sto parlando con Paolo Mi sto mettendo d'accordo Ehm Sì Vabbè, poi vediamo Poi vediamo Ciao, ciao Ciao Paolo Paolo c'è una sedia di rimediamme? No, scherzavo Ciao, ciao Paolo No, Paolo